Quando prendo la matita e il quaderno cosa devo scrivere? Devo scrivere della mia scuola, della mia casa, della terra che mi hanno portato via? Quando tornerò nella mia scuola, quando correrò verso di lei con la cartella? La mia scuola non c'è più, adesso ovunque è distruzione, non ci sono studenti e non ci sono campanelle. La scuola si è trasformata in macerie. Devo scrivere alla mia casa che non vedo più e dove non posso più stare. Devo scrivere dei fiori che profumano di distruzione? Siria, mio amato paese, tornerò mai da te. Ho fatto così tanti sogni e nessuno si è avverato. Tutto quello che voglio è vivere nel mio paese, in libertà. Siria, amato mio paese, io ti amo. Chi ascolterà il mio dolore in esilio? Chi comprenderà la mia pazienza e la mia fragilità? La mia pazienza sta finendo, i miei occhi non possono trattenere più lacrime. C'è qualcuno che ascolti la mia voce? C'è qualcuno a cui importi della mia infanzia? Che abbia pietà di me? Aiutatemi, arabi, aiutate i bambini siriani. Riportatemi a casa, al mio giardino, al mio paese. Ridatemi la mia cartella, i miei libri, le mie penne, le mie matite colorate. Ridatemi il mio sorriso, i miei amici, la mia scuola. Riportatemi indietro, riportatemi indietro, nella mia patria. C'è qualcuno lì fuori che mi ascolti? C'è qualcuno lì fuori che mi ascolti?